Benvenuti in questa puntata di D-Pen, io sono Zap, siamo in live su D-Pen Scienza, sia su Spreaker sia su Twitch. Vi ricordo come al solito che se siete abbonati a Amazon Prime potete venire a sostenerci sul nostro canale Twitch tramite un abbonamento gratuito che potete ottenere molto facilmente tramite una semplice guida che troverete sempre su Twitch. Oggi grande novità perché siamo in live anche su Clubhouse, stiamo facendo un mega esperimento, quindi per chi volesse abbiamo creato un gruppo Telegram per l'iscrizione a Clubhouse che come ormai saprete a menadito viene fatta su invito, quindi noi abbiamo gli inviti e li stiamo cedendo alle persone del nostro gruppo quindi se volete accedere a Clubhouse iscrivetevi al nostro gruppo Telegram. Oggi facciamo una puntata leggera, puntata leggera, sempre sulla falsariga della scorsa puntata e continueremo a parlare delle problematiche notturne, quindi dell'insonnia ma anche del pavor nocturnus e del sonnambulismo. Visto che la scorsa puntata era sorta qualche domanda a proposito del sonnambulismo ho deciso di studiarmelo un po' e cercare di darvi qualche risposta. Oggi quindi una puntata, dicevo, semplice perché la scorsa puntata è stata più complessa di quanto mi sarei aspettato e oggi quindi sono un po' più preparato, un po' più tonico e soprattutto ho dormito, al contrario dell'altra volta quindi a proposito appunto di problematiche notturne, questa è proprio la puntata che calza a pennello. Nel frattempo rispondo alla chat di Twitch dicendo che sì abbiamo già iniziato a dare gli inviti bisogna andare a iscriversi sul canale di Telegram. Mi dicono che c'è qualche problema per iscrivere sul nuovo canale che abbiamo creato appunto per fare la lista di inviti poi risolviamo nel post puntata. Allora, oggi parliamo di pavor nocturnus. Che cos'è il pavor nocturnus? Intanto, scusate, mi blocco un attimo, se qualcuno riesce a mandare il link di Spreaker nel gruppo Telegram così se qualcuno si collega di là riesce a dirmi se mi state sentendo oppure se sto parlando al vento. In ogni caso, altrimenti potete seguirmi su Twitch. Il pavor nocturnus... Oggi no, stasera non riesco a parlare. Il pavor nocturnus è una problematica tipica del bambino, una problematica che spaventa molto i genitori ma che in realtà ha un andamento del tutto autolimitante e del tutto benigno. Cosa intendo con autolimitante e benigno? Intendo che nel corso del tempo generalmente tende a sparire, così come il sonnambulismo, infatti hanno molte cose in comune. Sia il sonnambulismo sia il pavor sono due situazioni più tipiche nel bambino e che poi tendono a scomparire col tempo. Sono anche entrambe, come dicevo, ad andamento benigno nel senso che non creano delle problematiche importanti per il quale va seguita, per esempio, una terapia. Viceversa, tendono a sparire da sole senza provocare dei danni. Hanno quindi molte cose in comune, tra cui anche l'incoscienza, nel senso che sono due eventi che succedono durante la fase REM, e quindi durante quel periodo in cui siamo totalmente addormentati, in cui siamo... Ciao Lucrezia, grazie per esserti collegata su Spreaker. Quel momento in cui siamo proprio nel sonno profondo. E oltretutto questo porta al fatto che poi il bambino o eventualmente l'adulto non ricorderanno nulla di quello che è successo durante la notte. Ora bevo un sorso d'acqua perché ho già l'arsura e vi spiego cos'è il pavor. Allora, il pavor è una situazione nel quale il bambino si sveglia nel pieno della notte preso sostanzialmente dal terrore e inizia generalmente a urlare. Inizia a urlare, si alza dal letto come se fosse sveglio, ma in realtà chiaramente non lo è. e appunto preso da questo stato di terrore praticamente sveglia i genitori e li fa caccare addosso. Questo è proprio il termine medico per dirlo. Questo ha molto in comune con il sonnambulismo. Anche il sonnambulismo infatti è sia tipico nel bambino sia tipico della fase REM e in questa fase quindi c'è addirittura alcune persone sia bambini che adulti poi si alzano proprio dal letto magari si vestono magari vanno in giro a fare la pipì escono di casa alcuni e quindi non si rendono conto chiaramente di quello che stanno facendo perché loro in quel momento stanno ancora dormendo e in molti casi sognando. Quindi essendo in una fase di sonno così profonda entrambe queste situazioni portano a non rendersi conto quindi il bambino o l'adulto che soffrono di pavor o di sonnambulismo non ricordano assolutamente nulla di quello che è successo durante la notte molto spesso infatti sono proprio i genitori o i compagni o chi per essi che poi raccontano l'avvenuto al soggetto che poi chiaramente non ci crede perché essendo in una situazione in cui non si è coscienti si fanno azioni del tutto insensate che poi molto spesso fanno pensare al soggetto che appunto lo stiate prendendo in giro effettivamente non è così quindi un'altra cosa che hanno in comune sia il pavor sia il sonnambulismo è che non sono pericolosi sono delle situazioni appunto come dicevo autolimitanti il bambino o l'adulto che si trovano in situazioni sia di pavor sia di sonnambulismo dopo un po' si riaddormentano o tornano a letto nel caso del sonnambulismo o vengono guidati a letto chiaramente da le altre persone che sono in casa fatto sta che anche se questo non avvenisse potrebbe capitare per esempio per una persona che vive da sola di svegliarsi in un'altra stanza questo può sicuramente far paura ma non è pericoloso a meno che appunto non si vada a interagire con coltelli piuttosto che finestre aperte chiaramente entrambi non portano a disturbi neurologici piuttosto che altri tipi di problematiche successive e quindi per questo appunto dicevo che sono benigne leggo un attimo i vostri messaggi e andiamo avanti madda mi chiede se c'è una spiegazione perché sono fenomeni più legati a bambini che agli adulti io ho cercato una risposta a questa domanda in realtà non ce l'ho quello che ho trovato di cui però non sono molto sicuro perché non ho trovato nulla di certo ma solamente informazioni prese da internet quindi come sempre vanno prese con le pinze è che il bambino è più facilmente suscettibile a stimoli di stress per esempio stress come dire familiare piuttosto che banalmente vedere un film dell'orrore o avere delle problematiche scolastiche possono portare più facilmente il bambino che ha una mente sostanzialmente meno adatta a resistere a questi tipi di stress a subire di più questo fenomeno Mattilli dice sono svegliata spesso in piedi sì infatti ci si sveglia in piedi un'altra domanda infatti a cui voglio rispondere è si deve svegliare si deve o si può svegliare una persona che soffre di sonnambulismo e tra poco vi rispondo Lucrezia dice che gli piacerebbe provare il brivido di sonnambulismo beh tanto non te lo ricorderesti poi mi chiedono se si può svegliare va bene quindi ho centrato il punto della puntata eh sì infatti molto spesso anche i bambini si ritrovano poi svegli a svegliarsi per terra perché appunto si rimettono a dormire in camera ma magari non nel letto quindi porta disturbi no ecco da cosa sono causati quindi come dicevo non c'è una reale spiegazione forse sono appunto come dicevo dei disturbi psicologici più che disturbi come dire prettamente medici no il corpo sta bene sia nel pavor sia nel sonnambulismo sono stati fatti studi sia a livello di elettroencefalogramma piuttosto che altri test e non si sono rilevate grosse alterazioni possono essere appunto possono partire da un trauma o da una paura o piuttosto da uno stress per esempio appunto un periodo stressante a scuola per il bambino piuttosto che in casa o che ne so a lavoro per un adulto quindi quindi una cosa appunto si deve svegliare o si può svegliare una persona che effettivamente soffre di sonnambulismo mentre è in giro allora la risposta è nì nel senso che volendo si può svegliare c'era 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 un po' la leggenda del fatto che svegliare appunto una persona che soffre di sonnambulismo era molto pericoloso perché può provocare dei gravi danni cerebrali io vi dico che su questo non ho trovato traccia alcuna e mi lancio nel dire che tendenzialmente non si dovrebbe svegliare una persona che soffre di sonnambulismo per due motivi un motivo molto banale che è quello che si spaventa perché si sveglia magari in piedi in salotto quando si è addormentato nel letto e è uno spavento inutile oltretutto se non si conosce bene il sonnambulismo può appunto far paura il fatto di avere una persona che gira in casa e a cui parli e non rispondi sia per chi lo subisce che invece si ritrova in un'altra stanza con la gente spaventata che lo guarda e può essere appunto abbastanza traumatico secondo motivo molto banale è che essendo quella persona in una situazione di sonno sostanzialmente che sta dormendo c'è il rischio che possa cadere banalmente e le cadute sono diciamo un evento tanto banale quanto pericoloso specialmente per le persone molto alte conosco infatti persone che sono cadute per una banale sincope cioè sono svenute per motivi molto banali non aver bevuto tanto durante l'estate piuttosto che aver mangiato troppo poco avere la pressione bassa la caduta ti può far colpire il pavimento con la testa con una forza tale specialmente se sei molto alto che può provocarti dei danni importanti quindi io per quello mi spingerei nel dire di evitare di svegliare una persona una persona che appunto soffre di sonnambulismo per non spaventarlo per non farlo cadere leggo un ottimo i vostri commenti sì allora molto spesso le persone sonnambule parlano poi anche nel sonno effettivamente non sono coscienti di averlo fatto però molto spesso possono dare delle risposte coerenti perché come dicevamo nella scorsa puntata appunto il cervello durante la notte non è spento il cervello funziona benissimo anche mentre dormiamo va bene andiamo avanti andiamo avanti e parliamo se avete altre domande sul sonnambulismo scrivete pure in chat che io poi vi rispondo proseguiamo sull'insonnia l'insonnia è una problematica purtroppo ahimè è molto comune e come si può notare dalle mie occhiaie anch'io ne soffro molto spesso ma ho trovato sostanzialmente una ricetta magica un po' che voglio consigliarvi perché appunto per molti anni ho sofferto in modo direi molto grave di insonnia nel senso che dormivo veramente due ore a notte e oggi pur avendo le occhiaie che quelle ce le ho di genetica e me le tengo comunque sono riuscito a trovare un equilibrio nel sonno quindi voglio parlarvi di questa problematica le cause dell'insonnia le cause dell'insonnia sono tantissime possiamo avere delle cause diciamo prettamente mediche quindi dei problemi neurologici tutte quindi quelle problematiche che vanno a influire sull'azione o la disattivazione dei centri del sonno e della veglia di cui parlavamo nella scorsa puntata oppure possiamo diciamo subire degli stress sempre come dire gli stessi stress che possono portare al pavor e al sonnambulismo e questi stress sostanzialmente vanno a modificare la nostra composizione ormonale possiamo dire che va a interagire con i nostri centri del sonno e della veglia un'altra questione che provoca generalmente l'insonnia è l'abitudine abbiamo infatti tantissime tantissime abitudini negative che possono portare all'insonnia ne vedremo alcune durante il corso della puntata e la problematica di quelle persone che hanno cattive abitudini all'insonno è che questo porta a un circolo vizioso circolo vizioso in cui non dormo il non dormire mi porta ad aver paura di non dormire neanche il giorno successivo e questa paura stessa del non dormire mi provoca l'insonnia è un circolo vizioso appunto difficile da rompere e che però si può rompere ve lo assicuro e ci sono diverse strategie che si possono attuare l'insonnia infatti è una problematica diciamo avere problemi nel riposo da diverse poi difficoltà durante la giornata innanzitutto sei banalmente rincoglionito tutto il giorno ve lo posso assicurare quindi hai cali di attenzione se devi studiare non riesci a studiare se devi lavorare non riesci a lavorare hai sostanzialmente anche una forte influenza negativa sul tuo umore che a sua volta diciamo fomenta quello che è appunto quel circolo vizioso di cui parlavamo prima perché possa arrivare persino ad avere depressione a causa della mancanza di sonno e in realtà la depressione può essere sia una causa sia un effetto dell'insonnia in quel caso bisogna assolutamente rivolgersi a un medico e cercare di andare a risolvere e di rompere spezzare questa catena possiamo avere anche banalmente delle problematiche relative ai nostri riflessi tanto è vero che le persone che faticano a dormire per esempio che hanno apnee notturne che gli vengono diagnosticate gli viene anche tolta la patente quindi sono delle problematiche diciamo reali della vita quotidiana che però possono avere dei risvolti fortemente negativi al quale magari non pensiamo molto spesso leggo un secondo i vostri commenti madda se hai domande anche sull'insonnia vai pure chiedi pure matilde matilde mi chiede perché dormo bene durante la sessione e invece quando posso dormire non dormo e questa è una domanda difficile a corrispondere se lo scopro te lo dico anche a me spesso succede ti dico la verità lucrezia dice infatti che hai riscontrato molti più problemi di insonio durante il lockdown questa è una cosa relativa a un'altra puntata che voglio fare ovvero su una sorta di depressione da lockdown che si è verificata appunto in questo periodo chiaramente è una problematica che hanno avuto molti e quindi volevo proprio farci una puntata intera quindi andiamo avanti e cerchiamo di capire come combattiamo l'insonnia grazie per l'iscrizione intanto andiamo a capire come combattere l'insonnia allora io come vi dicevo sono una persona che ha sofferto moltissimo l'insonnia e tuttora ci sta combattendo però ho trovato alcune strategie che mi hanno aiutato tutte queste sono robe diciamo poco scientifiche nel senso che sono forse banalità vi sembreranno che però vi assicuro funzionano perché chiaramente dal punto di vista scientifico c'è tutta una branca nella medicina relativa a tutti i farmaci che possono essere somministrati a una persona che fatica a dormire che però non voglio trattare in questa puntata perché primo non voglio darvi spunti perché sono farmaci molto pericolosi in alcuni casi da utilizzare che molto spesso danno assuefazione e quindi non voglio dirvi quali sono sostanzialmente è chiaro che potete andare a cercarli su google però come abbiamo detto in altre puntate cercate di evitare se avete un problema ci sono dei medici che sono pagati per darvi la soluzione quindi andate a bussare alla loro porta quindi tolta questa parte di farmacologia che oggi non ci interessa andiamo a vedere come ho risolto io una questione anzi in un modo molto banale diciamo che l'idea in generale è quella di eliminare tutti gli stimoli che possono essere di disturbo per il nostro sonno quindi partiamo dalla nostra stanza la stanza in cui dobbiamo dormire se soffriamo l'insonnia deve essere il più buia possibile più buia possibile perché così come diciamo il nostro cervello di notte non è morto non è completamente spento allo stesso modo gli occhi chiusi non non è che non vedano niente ecco quindi qualsiasi stimolo visivo anche se abbiamo gli occhi chiusi può portare a stimolare i nostri centri i centri della veglia e quindi può andare a stimolare può andare a instaurare quella carenza di si Brown adesso ti rispondo quella può andare appunto a stimolare la veglia e quindi a tenerci svegli sostanzialmente se non riuscite in alcun modo a spegnere tutte le luci e a chiudere scusate le finestre in modo diciamo assoluto nella vostra stanza banalmente andate da Primark tra l'altro Primark se vuoi sponsorizzarci io sono qua tra l'altro questa magliettina che indosso è proprio di Primark quindi calziamo a pennello mandaci una mail andate la Primark spendete 50 centesimi per una mascherina quelle che si utilizzano per esempio per fare i voli molto lunghi vi mettete la mascherina e avete risolto il problema ci vuole un po' di abitudine a sopportarla ma tant'è se poi riuscite a dormire è una sopportazione che vi farà piacere altra questione oltre allo stimolo visivo sono i suoni i suoni molto spesso non ce ne rendiamo conto ma sono molto disturbanti anche perché come faccio a spiegarvelo diciamo che vanno a stimolare un'area del nostro cervello che è fortemente connessa con delle zone primitive che ci fanno percepire il pericolo per questo per esempio i botti molto spesso fanno paura ci fanno chiudere gli occhi in automatico quindi l'orecchio o meglio l'udito è un senso molto molto sensibile e quindi dobbiamo tenerne conto quindi se avete la doccia che è gocciola in bagno se avete altri suoni all'interno della stanza o se banalmente abitate in una zona dove c'è una strada trafficata soluzione anche qui poco costosa e molto banale comprate i tappi per le orecchie quindi se avete paura di non riuscire a svegliarvi potete banalmente utilizzare delle sveglia vibrazione che esistono tra l'altro ho scoperto una cosa fighissima adesso ve la racconto esistono sia il telefono vibra quindi probabilmente lo sentite se ce l'avete nelle vicinanze anche se ve lo sconsiglio altrimenti se avete una smart band per esempio può vibrare all'ora giusta senza fare suoni o anche se avete i tappi quindi non lo sentite vi vibra il polso e vi sveglia altrimenti il metodo più banale è farvi dare una bella gomitata dal vostro compagno o compagna che dorme dall'altro lato del letto intanto io bevo leggo i vostri messaggi e vi racconto la figata che ho scoperto matilde ho la soluzione anche per te aspetta e rimarai soddisfatta ok cosa ho scoperto mi sono sempre chiesto come fanno i sordi a svegliarsi perché la mia sveglia è praticamente un trombone che parte dall'afferino che ho qua di fianco che non posso nominare se no si accende e inizia a buttare musica a bomba e quindi mi sveglio ma se fossi sorto come farei a svegliarmi ebbene sappiate che esistono delle sveglie a vibrazione quindi non so bene come funzionano non so bene dove si comprano però se appunto utilizzate i tappi possiamo fare una ricerca insieme e andare a scoprire come funzionano queste sveglie a vibrazione e anzi a sostegno del fatto che gli occhi chiusi vedano lo stesso sempre i sordi vanno a impostarsi delle sveglie fortemente luminose che magari lampeggiano e quindi anche con gli occhi chiusi loro riescono a vedere cioè loro anche noi riusciamo a vedere appunto questa luce e quindi questo anche funge da sveglia e questo si ricollega appunto a quello che abbiamo detto prima che anche se abbiamo gli occhi chiusi dobbiamo assolutamente assicurarci che la stanza sia totalmente buia meglio Lucrezia che oggi non arriva nessuno da bannare quindi arriviamo alla domanda che mi hanno fatto prima Matilde credo il problema più grosso di quelli che non dormono generalmente però non sono i disturbi visivi o uditivi che ci sono nell'intorno molto spesso il problema è che non si riesce a spegnere il cervello una cosa che a me per esempio succede spesso quando sono nella fase in cui sto ripetendo per un esame mi viene in mente una domanda che mi potrebbe fare all'esame e il mio cervello inizia a ripetere praticamente tutto quanto e quindi mi ritrovo magari dopo mezz'ora che ho ripetuto mezzo libro nella mia testa però non ho dormito il giorno dopo quindi sono rincoglionito non riesco a studiare bene mi viene l'ansia che non riesco a dormire a studiare bene e questo mi fa partire il circolo vizioso che probabilmente è quel circolo vizioso che porta a non dormire forse il 90% degli studenti di tutto il mondo quindi come facciamo a risolvere questa cosa? questa volta non è semplice non è semplice ma c'è una soluzione la soluzione è una tecnica di mindfulness che ho scoperto forse un paio un paio d'anni fa che non è una tecnica è sostanzialmente la base del mindfulness tra l'altro me l'ha fatta scoprire palla quando abbiamo quella stessa vacanza in cui abbiamo progettato il podcast e l'ho applicata appunto per risolvere la mia insonnia e la tecnica è molto semplice ma al contempo molto 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 difficile ovvero il segreto è riuscire a non pensare e a sbiancare la testa o meglio oddio ragazzi aspettate che mi è morto tutto mi sentite? mandatemi un segnale perché mi apparsa una roba strana sul computer quindi come si fa a non pensare? il non pensare è il punto base del del mindfulness quindi concentrarsi per esempio sulla nostra respirazione e non appena si non appena capiamo che stiamo pensando a qualcosa tornare a uno stato di come dire di annullamento dei pensieri e riconcentrarci per esempio sul nostro respiro Brown che non so chi sei se è Bruno o Brown dice che non è proprio mindfulness effettivamente io dico mindfulness per farvi capire però per quanto ne so sostanzialmente si è una sorta di meditazione dai possiamo dirlo Bruno comunque per farvi arrivare il concetto questo è dobbiamo riuscire ad avere la base di tranquillità che ci viene dal fatto di riuscire a non pensare a niente è molto difficile non pensare a niente me lo diceva appunto Palla che provava a praticare queste tecniche ed effettivamente l'ho sperimentato anch'io le prime volte che ho tentato di annullare il pensiero specialmente quando sei in una situazione di ansia si scusate si sei in una situazione di ansia stai pensando a mille cose è chiaro che può risultare banale dire non pensare però non è facile farlo sostanzialmente Lucrezia devi metterti in una posizione in cui sei comoda chiaramente e riuscire a non pensare assolutamente a nulla e da quel che ho capito anche se Bruno adesso mi dice che non è proprio così questo sta anche alla base del mindfulness ovvero della non è proprio il mindfulness della meditazione ecco è una questione molto difficile tra l'altro se volete c'è un un documentario una specie di documentario guida che ti aiuta a fare questa cosa su Netflix quindi se lo volete vedere è fatto molto bene adesso non è che io sia il guru appunto della meditazione però mi sembrava fatto abbastanza bene e soprattutto spiega meglio di me questa cosa del riuscire a non pensare a niente quindi magari andatela a guardare la cosa importante è non frustrarsi di non riuscire cioè è ovvio che all'inizio è molto difficile non pensare a nulla concentrarsi sulla respirazione col tempo si acquisisce un controllo su questa tecnica magari Bruno ci può dare qualche tip sul sul gruppo Telegram poi o direttamente qua in chat perché no così lo diciamo e sicuramente trovate anche qualcosa su qualcosa su YouTube comunque io con questa tecnica ho risolto quel problema ovvero di non riuscire a smettere di pensare un'altra cosa fondamentale è l'attività fisica l'attività fisica ha diverse funzioni la più banale magari Bruno facciamo una facciamo una puntata proprio a proposito di mindfulness visto che mi sembri ferrato tra l'altro anche palla di piace magari la facciamo su di pen giallo e ti invitiamo così cogliamo questa occasione per andare a spoilerare una parte della puntata di domani che prevederà in sostanza il futuro magari delle puntate appunto insieme a voi dicevo l'attività fisica l'attività fisica ha banalmente la funzione di andare a stancarci quando facciamo attività fisica probabilmente siamo più stanchi arriviamo la sera più stanchi quindi più facile che ci metteremo a dormire e che ci metteremo a dormire nell'ora giusta non solo però perché l'attività fisica ha una funzione decisamente positiva sul nostro diciamo sul miglioramento del nostro umore e quindi tramite sempre il rilascio di ormoni ormai lo sapete che le nostre le nostre sensazioni sono sostanzialmente stimolate da un bilanciamento tra ormoni anche se la mia ragazza non è molto contenta di questa mia affermazione ve l'ho già raccontato il fatto sta che l'attività fisica è fondamentale per sentirsi bene sia a livello fisico sia a livello mentale e soprattutto può avere un impatto molto forte sulla positività del nostro umore e quindi può essere molto utile a rompere quel circolo vizioso di cui parlavamo prima inoltre quindi è chiaro quando facciamo attività fisica ci sentiamo più liberi più come dire meno stressati e sostanzialmente ci sentiamo più soddisfatti della giornata che è passata in cui magari siamo andati a lavoro abbiamo fatto mille cose abbiamo anche trovato il tempo di fare un po' di palestra o di fare una corsetta chiaramente non stiamo parlando di fare un triathlon ma anche perché il sovrallenamento poi ha un effetto contrario quindi un'attività fisica blanda è sicuramente da consigliare sia in generale per il benestare per lo stile di vita positivo sia appunto specificamente per l'insonnia altro tip anche questo può sembrare molto banale ma è sostanzialmente di evitare qualsiasi stimolante specialmente nella seconda parte della giornata quindi caffè tè sigarette alcol anche sono per chi soffre di insonnia generalmente da evitare diciamo dal pranzo in poi per il caffè per il tè la questione è molto banale sono due eccitanti ne abbiamo parlato come dicevo anche nella scorsa puntata e ci mettono molto tempo ad essere smaltiti e quindi è meglio assolutamente evitare così come la coca cola tutte le sostanze che contengono taurina caffeina o teofillina per le sigarette attenzione perché sempre come dicevamo nella puntata a proposito del fumo abbiamo l'illusione che la sigaretta sia d'aiuto per la nostra tranquillità per andare a rilassarci in realtà la nicotina è un potente stimolante e quindi ha un effetto esattamente contrario quindi evitate di spaccarvi di sigarette prima di andare a dormire perché questo può andare a inficiare sulla qualità del vostro sonno e anche l'alcol in realtà c'è il falso mito che bere un po' possa aiutare a dormire meglio in realtà l'alcol a basse dosi è un eccitante è un disinibitore sociale mentre ad alte dosi invece ha effetti diciamo più soporiferi solo che credo che la cirrosi epatica e il tumore al fegato le ischemie cerebrali che ne so le embolie e il delirium tremens e quindi tutte le conseguenze dell'alcolismo non siano dei compromessi accettabili per riuscire a dormire leggo un attimo i vostri commenti allora Mari dice che l'hanno aiutata tanto durante il lockdown nei video di ASMR io non sinceramente non ho ben capito dovrebbero essere rilassanti io li trovo veramente veramente irritanti non è una critica è proprio come li percepisco io però magari provate perché no esatto esatto proseguiamo 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 poi allora banalità ormai lo sanno anche i sassi evitare di utilizzare il cellulare prima di dormire ma non solo evitiamo anche video film youtube insomma tutto quello che è tv e cellulare o tablet questo perché per vari motivi innanzitutto quello banale della luce blu questo ormai lo sapete in realtà esistono dei filtri e delle diciamo delle tecniche software per riuscire a eliminare appunto questa storia della luce blu che può tendenzialmente andare a impedire di dormire ma non sono così efficaci questa luce blu va a stimolare chiaramente i nostri ormoni come ormai abbiamo detto mille volte e soprattutto va a stimolare l'attività di pensiero anche quando noi scorriamo il cellulare o guardiamo instagram o guardiamo five minute five minute craft adesso scusate la mia mio accento un po' inglese ignorante quando appunto stiamo scorrendo queste robe il nostro cervello è vero che può sembrarci spento perché non pensiamo a niente effettivamente siamo lì come dei beoti a muovere il dito in modo automatico senza neanche pensare a quello che stiamo guardando in realtà però il nostro cervello assimila tutto assimila tutto e è attivo in continuazione quindi è vero che non stiamo pensando a niente il nostro cervello però sta lavorando come un matto e quindi tutto questo va ad influire sulla qualità del nostro sonno in generale quindi anche se riuscite a dormire questa è una pratica che sicuramente va magari a dare una pessima qualità del sonno o più che pessima la peggiore magari qualità del sonno rispetto a quella che avreste invece facendo qualcos'altro parlando col vostro compagno o compagna prima di dormire questo questo appunto è un paradosso che esatto madda stasera che è incredibile mi leggete nel pensiero forse mi avete spulciato sbirciato la scaletta questo è un paradosso con la lettura la lettura è stata la mia chiave di volta per la risoluzione dell'insonnia tant'è vero che anche adesso io non ho sconfitto del tutto la mia insonnia nel senso che mi capita di rimanere sveglio magari fino alle 2 alle 3 di notte prova a mettere in atto tutto quanto e ancora non riesco a dormire l'unica cosa che riesce realmente a distruggere completamente l'insonnia è leggere bevo un secondo perché ho la lingua felpata e poi vi spiego allora leggere è fondamentale secondo me non c'è nulla di scientifico questa è parola di zap quindi prendetela per vera o per falsa in base a quanto vi fidate di me e soprattutto non c'è nessuna legge scientifica a supporto di quello che sto per dirvi però per me la lettura è stata appunto la chiave di volta è quasi un paradosso pensare che leggere possa spegnere il cervello a tal punto da riuscire a farci dormire anche in quelle situazioni in cui in realtà noi siamo fortemente insonni perché comunque quando leggiamo potremmo pensare di avere uno stimolo più forte magari anche rispetto a scorrere appunto la feed di instagram perché durante appunto lo scorrimento non mi sembra di non usare il cervello mentre invece quando leggo penso un sacco no magari mi immagino lo scenario che sto leggendo magari mi immagino o tendo a che ne so a ricordarmi un passaggio passato del libro o a pensare cosa starà succedendo dopo in realtà mi sono reso conto che seppur il cervello sia fortemente più attivo rispetto alla lobotomia da instagram incredibilmente dopo riesco a dormire e soprattutto dormo meglio non so dirvi esattamente il perché ma per tutti quelli che soffrono di insonnia compratevi un buon libro o compratevi un buon ebook reader magari che abbia la luce dimmerabile in modo da no riuscire ad avere una lettura ottimale anche totalmente al buio e senza svegliare tutto il vicinato con la luce accesa vi assicuro che funziona funziona ti dà un relax assoluto e soprattutto ti fa sentire bene con te stesso perché hai utilizzato quel tempo per fare qualcosa di produttivo e non solo perché poi ti ha fatto dormire meglio ma anche perché appunto non hai sprecato tempo davanti ad instagram ma perché hai letto magari che sei fatto una cultura su qualcosa e questo stato mentale di positività sicuramente può solo aiutare leggo un attimo i vostri messaggi leggiamo gli ultimi due punti poi chiudiamo la puntata allora leggere su carta o su ebook reader io non ti so dare una risposta nel senso che secondo tutto quello che ti ho detto finora in teoria dovresti leggere su carta in realtà io leggo sull'ipad e dormo come un sasso lo stesso quindi magari può essere anche una questione soggettiva in base a come ti trovi più comoda vedi sia Madda anche Madda dice che leggere gli dà il colpo di grazia è l'unica cosa ma infatti anche magari quelle notti dove vi state rotolando nel letto da tre ore e sono le quattro del mattino e dite vabbè adesso mi alzo faccio colazione faccio qualcosa anche quelle notti che do per spacciate leggere mi fa addormentare in dieci minuti e vi assicuro provate quindi altri tip veloci tip veloci uno fondamentale è migliorare la propria dieta di questa puntata sta venendo lunghissima dovevo parlare secondo me dieci minuti sono quaranta minuti che siamo live migliorare la dieta è sicuramente un aspetto fondamentale per esempio bere a sufficienza anche di questo abbiamo parlato in un'altra puntata ma è fondamentale appunto bere le giuste quantità di acqua durante la giornata soprattutto mangiare leggeri a cena chiaramente andare a letto con la cena sullo stomaco non è efficace per la qualità del nostro sonno oltretutto rischiamo rigurgiti e robe brutte che poi non vi dico se no dice sempre che parlo di gente morta il fatto sta che per esempio anche per tutte quelle persone che hanno difficoltà a respirare che magari sono sovrappeso che magari hanno problemi appunto di apnea notturne utilizzare diverse cuscini per stare un po' più inclinati verso avanti può sicuramente migliorare la situazione e soprattutto se vi sentite lo stomaco borbottare o lo stomaco pesante come dicevo una volta nel gruppo mi sembra a Sofia sdraiatevi sul lato sinistro del corpo perché se avete diciamo qualche memoria dei cartoni animati di siamo fatti così o se avete studiato anatomia saprete che lo stomaco ha la grossa curvatura quindi diciamo la conca grossa dello stomaco è verso sinistra quindi quando voi vi poggiate sul lato sinistro anche se avete mangiato un po' troppo il cibo si va a posizionare in quella conca e non spinge né sullo sfintere esofageo né sul piloro e quindi vi dà un senso minore di pesantezza e vi aiuta a digerire meglio e soprattutto vi aiuta ad addormentarvi quindi questo è un tip che voglio suggerirvi altra questione importante è andare a dormire all'ora giusta è fondamentale perché come dicevamo nella scorsa puntata il sonno ha dei suoi cicli che vanno rispettati questi cicli sono le fasi REM e non REM queste fasi non sono sempre uguali come orari in tutte le persone ma possiamo dire che tendenzialmente ogni tre ore facciamo un ciclo di fase REM non REM e sarebbe meglio su questo io non sono sicuro al 100% non ho prove scientifiche al momento possiamo trovarle però perché so che ci sono che non andrebbero interrotte per avere una qualità del sonno ottimale e quindi calcolate che se dovete svegliarvi alle 9 calcolate l'esatta ora in cui dovete andare a dormire per fare i giusti cicli di tre ore e non bloccare sostanzialmente questi questi appunto questi cicli fondamentale è anche quindi rispettare l'orario nel quale andare a letto perché chiaramente se ci mettiamo a letto alle 4 di notte come dicevo nella scorsa puntata ci sono dei cicli ormonali che vanno rispettati e non rispettarli significa anche poi soffrire l'insonnia banalmente perché a una certa ora viene prodotto un certo ormone quali ormoni l'abbiamo già detto mille volte quegli ormoni che ti servono per addormentarti se tu salti l'ora giusta chiaramente hai saltato il momento giusto del ritmo circadiano e chiaramente farai più fatica a dormire quindi ragazzi io la smetto qua di asciugarvi voglio solo darvi un piccolo un ultimo consiglio che è quello di non sottovalutare l'insonnia e soprattutto di evitare il fai da te o meglio di cercare chiaramente di rispettare tutte queste regole che sono sicuramente utili ma di evitare il fai da te con le medicine perché appunto come dicevo all'inizio della puntata alcune di esse sono molto pericolose specialmente le sostanze appunto che possono andare a combattere l'insonnia perché molto spesso sono anche degli antidepressivi che vanno dosati nel modo giusto quindi non sottovalutate l'insonnia andate a chiedere a un medico che lo fa di mestiere vi aiuterà e ha tutto l'interesse di lavorare per il vostro interesse ultima cosa se iniziate a seguire tutte queste regole all'inizio vi sembrerà difficoltoso ci sono mille cose da pensare mille cose da seguire mille abitudini cattive da perdere in realtà bastano due settimane continue per crearsi una nuova abitudine quindi magari se siete stati insonni da tutta la vita provate a fare queste due settimane regolari e provate a invertire questo trend continuate per due settimane e cercate di appunto prendere la strada giusta per andare a combattere l'insonnia Bruno la melatonina la melatonina non è un farmaco molto spesso sono o meglio dire che non è un farmaco oddio se mi sentisse il professore mi toglierebbe i sei crediti di esame diciamo che la melatonina è una sostanza endogena ecco così ci pariamo il culo è una sostanza endogena che serve appunto a regolare il ciclo circadiano e che è molto importante per andare a dormire meglio e al momento giusto esistono esistono diversi integratori di melatonina esistono diversi infusi che possiamo utilizzare funziona cioè sicuramente si funziona però anche lì eviterei di prenderla a sproposito pur essendo degli integratori io un giretto dal medico me lo farei ecco anche perché se soffri l'insonnia devi capire se la tua insonnia è come dire motivazionale se è un'insonnia derivante da uno stress piuttosto che da problematiche comportamentali che puoi facilmente risolvere in quel caso probabilmente la melatonina può essere più che sufficiente per risolvere i tuoi problemi insieme a tutti questi tips che questi suggerimenti che ti ho dato in questa puntata però magari l'insonnia può essere sintomo di qualcos'altro quindi nascondere magari una malattia vera seria e quindi molto spesso è meglio chiedere a un medico appunto per riuscire a risolvere questa situazione va bene ragazzi io stacco la live di twitch se volete proseguire a cazzeggiare ci sentiamo sul canale di telegram quindi vi suggerisco di iscrivervi anche il canale telegram non so se sono rimasto in live anche su su clubhouse chi lo sa fatto sta che ci sentiamo quindi domani intorno alle 4-4 e mezza in cui faremo tutti i più grandi annunci della storia di dipen quindi non perdeteveli e e basta vi ricordo che se volete sostenerci potete abbonarvi al nostro canale twitch gratuitamente se avete amazon prime oppure semplicemente potete venire a seguirci sui nostri social su twitter instagram facebook ce n'è un po' per tutti per aiutarci appunto a condividere le nostre puntate quindi un saluto e ci sentiamo domani ciao 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 Grazie.